Io credo di avere un problemino oggi a casa Non so cosa dovrei fare Non so cosa dovrei fare In questi casi chi si chiama? La situazione, il gatto ci gioca, eh? Fa qualcosa, fa qualcosa Fa qualcosa, fa qualcosa In questi casi precisi Chi si chiama? I pompieri, i poliziari, i carabini, chi? Cioè, io Il gatto l'aveva perso, io ho spostato L'abbiamo ritorno, è là Eh, voi neanche E' saltato E' saltato tre mesi, mamma mia, addio santo Chi mi ospita stasera? Che carini, tu me e Jerry Fai qualcosa, gatto Mi fai qualcosa, gatto Va avanti così da un'ora Va avanti così da un'ora Se accettano consigli Immediati Grazie